Ciao a tutti, oggi vi voglio dare delle indicazioni che spero vi siano davvero utili. Il fatto che molti miei video siano fatti in auto è legato a una mia abitudine, che è quella di arrivare sempre con un certo anticipo agli appuntamenti. Questo perché mi piace poi avere un momento per fare mente locale su quello che sto andando ad affrontare, sulle persone che sto incontrando e quindi prepararmi sempre al meglio. Oggi vi volevo dare questa indicazione legata a un sito che ho creato e che curo, che è il sito del Writing Way, www.writingway.net. Da questo sito potete scaricare delle risorse gratuite, a mio avviso molto utili, risorse che riguardano per esempio la possibilità di fare un test della vostra scrittura e quindi rendervi conto del punto a cui siete arrivati scrivendo. E poi però anche un ebook dedicato al contratto editoriale. Nel mio lavoro di editor incontro ancora troppe persone che non sono consapevoli dei propri diritti e quindi facilmente preda di contratti non proprio corretti. Quindi da questo sito potrete scaricare il contratto tipo previsto dalla normativa con tutte le indicazioni che un contratto deve contenere. Ma potrete scaricare anche un'infografica che vi guiderà nell'elaborazione del vostro lavoro e una mappa per scrivere e impostare le basi di un romanzo. Spero che davvero vi siano di utilità e mi farebbe un grande piacere se dopo averle scaricate e sperimentate vorrete darmi la vostra impressione, il vostro feedback su queste risorse. Davvero ve ne sarei grata. Che mi resta da dirvi? Mi resta da dirvi buon lavoro e a presto! Grazie a tutti!